E chiamo Sabina Nattiudì, segretariato del segretariato comunale del SONRAT per dare un'altra risposta a questi imprenditori che operano nel settore della cultura per concretizzare quelle che sono le loro distanze. E si potrebbero riassumere brutalmente sotto tre aspetti, diciamo, quindi come ottenere i corrispondi, che è sempre un aspetto fondamentale dal punto di vista dell'imprenditori A, con ottenere maggiori spazi e con ottenere maggiori contatti, quindi maggiore lento per fare l'impresa e i loro committenti mirati. Quindi, dottoressa Matrini, la parola a lei. Allora, è stato tutto, grazie per l'invito. Io, a E, spero che mi possa aggiungere anche un altro, perché penso che dinanzi a un ministero che sta conoscendo a partire dal 2014 una serie di riforme, forse legittimo da parte di chi è all'esterno del ministero, neanche interrogarsi su quello che davvero il ministero sta facendo, come su fronte della valorizzazione e della promozione. E quindi, anche perché il ministero per le attività culturali ha aggiunto quel turismo alla fine, adesso è il MIPAT, in effetti lo era già dal 2013, però effettivamente è proprio con questo nuovo, il TPCM 171 del 2014, che è quello che ha segnato sostanzialmente la riforma, l'avvio della riforma, che di turismo si parla sul serio. Allora, qui abbiamo parlato molto di esperienze reali che già si sono, diciamo, concretizzate nell'ambito, ovviamente, museale, si parla molto meno di turismo, e secondo me, invece, potremmo davvero incontrarci anche nell'aspetto turismo. E nell'ambito del turismo è importante, magari, proprio perché è un campo proprio nuovo, sia per noi, che per voi, quindi, per facciarvi con noi, vedere un pochino che cosa fa il segretariato in ambito di turismo. Allora, regalare un po' di mattina per... Si sono scaricate le altre tecniche. Ah, vabbè, non si può andare avanti. Allora, proprio questo decreto, un riferimento prima dell'articolo 32, parla di noi, si è esercitato, e lì, se vi può interessare, fa riferimento al fatto che si è riferimento a produire la realtà locale, quelle che sono le linee generali, produite da Roma, diciamo, dal centro, sul turismo, ma allo stesso tempo fa un'umerazione di auditing sul territorio per sentire quelle più le esigenze sul fronte del turismo a livello locale. E quindi si cerca poi di realizzare questo insieme agli enti locali e alle regioni. Tra l'altro, va tenuto in considerazione il fatto che le regioni, finora, e perché non sarà avviato, diciamo, un cambiamento di uso personale, il titolo quinto ha una protestata esclusiva sull'ambito del turismo. Non sapremo quando andrà a finire la storia del reparello costituzionale dell'autunno, però diciamo che uno dei punti è proprio quello della collaborazione Stato-Regione per una politica turistica nazionale. Andiamo avanti. Insieme agli enti locali, alle associazioni e alle regioni stiamo lavorando sull'anistra generale del turismo sostenibile. E quindi sono state due occasioni importanti in cui diversi attori del mondo turismo hanno lavorato insieme per cercare di capire cosa davvero può servire. Andiamo avanti. Ed è qui che possiamo incominciare a vedere delle applicazioni pratiche. Cioè, di che cosa si occupa il Ministero quando parla di turismo? Parla di un turismo che non è sostanzialmente quello balneare, ma di un turismo culturale, un turismo lento, un turismo sostenibile appunto. Quindi il Ministro Franceschini andiamo avanti, lavorando molto sulle ciclovie, stiamo lavorando quindi su ciclovie, cammini, tutte queste occasioni per un viaggiare lento che permette di conoscere e di valorizzare il territorio. Quindi, da qui il protocollo di intesa per il CAI, andiamo avanti. E da qui il fatto che, come segretario regionale, abbiamo messo su una piattaforma digitale nata per esigenze diverse nella gestione dell'emergenza sisma, ma che adesso si sta rivelando come uno strumento molto prezioso per la conoscenza del territorio. Se andiamo avanti, vedrete che da una, sostanzialmente da giardine che noi abbiamo, è possibile, che sono disponibili in rete, è possibile conoscere il territorio per ricavare tutta una serie di dati che possono servire per organizzare ad esempio itinerari e passeggiore. Ora, qual è quindi lo scopo nostro? Fornire quindi supporto alle progetti locali, no avanti, no avanti, una serie di progetti, progetti di loca. Questo è un progetto che riguarda l'area della Lombarecchia. Allora, qui stiamo lavorando con i gruppi d'azione locale. I gruppi d'azione locale della Lombarecchia sono associati tra loro, riescono in qualche maniera a intercettare fondi comunitari e insieme al Ministero di Attività e Culturali si sta lavorando ad esempio quella che è la manutenzione ordinaria di aree agricole che per esempio conservano anche siti archeologici e che hanno quindi bisogno di un controllo costante che con il Ministero non riusciamo a garantire ma allo stesso tempo i gestori degli agricolti quindi sostanzialmente diciamo tengono ad avere e tengono a poter rappresentare ai propri ospiti. È una forma di collaborazione davvero concreta. Andiamo avanti, abbiamo anche il territorio di Viero e qui è una come dire si lavora insieme in più regioni perché qui coinvolgiamo in Toscana Marche e in Germania e ancora se qui c'è questo grande rapporto Romagna-Toscana anche per quanto riguarda i treni percorsi e i treni storici e infine il luogo e stense allora questi sono dei progetti concreti nei quali stiamo lavorando i finanziamenti possono essere di tipo europeo ma nel caso per esempio di un educato estense di cui forse si tratta di un progetto che è partito dal primo maggio con la Chilipera Cic si tratta di finanziamenti importanti che sono per esempio europei di sviluppo e coesione ora al segreterato regionale del Mediterraneo Romagna è stato affidato l'incarico di lavorare molto sul progetto di valorizzazione e comunicazione integrata del ducato creando quindi insieme non vogliamo fare assolutamente lavoro a nessuno insieme quindi a società tutto quello che sarà la comunicazione sul territorio dell'attività dei gambieri da un lato e dall'altro la creazione di percorsi turistici per la scoperta del territorio attraverso una serie di hub dalla quale sarà possibile scaricare dati e dati ai luoghi che si andranno a costare quello che sarà la nostra funzione quello che noi possiamo fare per voi è quello di fornirvi dati di qualità dati certificati perché la nostra piattaforma a cui ho fatto 100 prima quella che permette di vivare il percorso o quant'altro è comunque una risorsa open source i nostri sono open data non so se siete diciamo allineati con quello che sta facendo l'IPC sui open data ma quello che appunto noi come ministero possiamo fare ed è il nostro scopo istituzionale è quello di lavorare in talo di fornire dati appunto di qualità che poi possono essere liberamente lavorate innanzitutto presi e poi liberamente lavorati all'interno di quelli che possono essere dei software delle app che permetteranno appunto come si legge nel dettato della proposta di legge che permettono appunto lo sono sottolineato la produzione e commercializzazione dei prodotti o servizi dei motivi per la promozione di un'effetto naturale nazionale è tutta la mia domanda deve invitare a io concludo qui grazie grazie mille per il suo progetto di me grazie 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 grazie